Un nome senza dubbio del Volei Ligure per esporre il punto di vista da parte genovese di questa neonata e promettente collaborazione. Buonasera a tutti, lei ha detto bene, una neonata e promettente collaborazione su due poli molto importanti, quello spezzino e quello genovese, fra panciroli e parodi che parlano la stessa lingua, in una casa sono due imprenditori che hanno una visione molto chiara di cosa si deve fare, cioè investire sul settore giovanile, quindi la mia presenza qua a Spezia è finalizzata proprio a questo obiettivo, che è far crescere il settore giovanile e facendolo crescere sicuramente fare un'attività di formazione con gli allenatori, infatti tutta la mattina è stata dedicata proprio a questo. Dunque Nicola, spiegalo un po' tu, in cosa consiste questa collaborazione, si suppone e si spera a doppio filo, tra la scuola Pallavolo Spezia e l'Olimpia Sertecco Genova, nome di una certa tradizione nel contesto della Pallavolo regionale, insomma a cosa è mirata questa collaborazione, a cosa sperate che porterà? La volontà è quella di crescere sempre, ormai è da qualche anno che abbiamo iniziato a fare questa avventura nel mondo della Pallavolo, tutti avevamo delle esperienze pregresse, abbiamo scelto di creare una società tutta nostra, la volontà è quella di allargarsi, migliorare sempre più la preparazione dei nostri tecnici e allargare anche l'orizzonte delle nostre collaborazioni, perché comunque imparare da chi è più bravo di noi è sempre bene, anche per la crescita delle ragazze.